Atalanta-Monza termina 2-0, i bergamaschi entrano a piano titolo nella vittoria contro il Monza, il Monza di Silvio Berlusconi che però purtroppo, per fortuna, cade davanti ai colpi, ripeto, dell'Atalanta. Chi fa i gol per l'Atalanta è presto detto, nel secondo tempo arrivano entrambi i gol, uno lo fa Lazar Samarzic, il secondo ed ultimo lo fa Davide Zappacosta, il Monza rimane a 0. Le statistiche promuovono appieno l'Atalanta, più possesso di palla, i passaggi sono molti di più per l'Atalanta rispetto al Monza e la proiezione dei passaggi è un po' di più alta dell'Atalanta rispetto al Monza. Quindi anche dal punto di vista statistico l'Atalanta gioca divinamente parlando e Berlusconi penso che nell'alto di Cerio che si trovi, mi auguro lì sopra, con gli angeli, si starà disperando per il suo amato Monza che purtroppo ha perso. Io vi ringrazio in primis per la visione, in secondis per l'ascolto di questo video di oggi utenti di Youtube, iscrivetevi se vi va a commentare, una buona notte a voi.